Grazie. Grazie a tutti. 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 tutelata quindi vediamo che è un tipo di segreto che nasce già con delle peculiarità proprie ma che affonda le sue radici in delle giustificazioni estremamente importanti sappiamo tutta la teoria del giornalismo americano il giornalismo come disinfettante della democrazia eccetera eccetera l'abbiamo citato diverse volte oggi mi piace molto citare anche questa frase sempre di bobbio del suo libro democrazia segreto dove ci dice che non esiste democrazia senza opinione pubblica senza la formazione di un pubblico che pretende di avere diritto a essere informato delle decisioni che vengono prese nell'interesse collettivo e di esprimere su di esse la propria libera critica perché così strettamente connesso il segreto professionale il segreto della fonte da parte del giornalista all'esercizio di un potere democratico è estremamente semplice se la fonte sapesse di non essere tutelata probabilmente sarebbe disincentivata a rivelare quelle informazioni che invece servono per formare l'opinione pubblica e per consentire all'opinione pubblica di esercitare il suo diritto di critica ed è così che il segreto si trova ad essere ricondotto a una funzione fortemente democratica dello stato e dell'ordinamento giuridico ed è il motivo per cui il segreto viene fortemente tutelato nel nostro ordinamento anche se nel caso del giornalista vedremo che soffre un po di alcune concezioni piuttosto antiche che comunque c'è da dire sono a conoscenza del legislatore si spera che prima o poi vi ponga rimedio come vi dicevo la segretezza delle fonti è addirittura uno dei privilegi più antichi e più tutelati ci sono dei privilegi che sono venuti delle forme di tutela scusate giuridiche del segreto che sono addirittura venute in un secondo momento ma i legislatori e tra l'altro la cosa abbastanza singolare è che questo tipo di privilegio sia riconosciuto in diversi ordinamenti giuridici noi chiaramente qui vedremo prevalentemente quello italiano ma voi sapete che anche altri ordinamenti giuridici riconoscono questa importanza della tutela del segreto della fonte da parte del giornalista e in quanto tale potremmo dire che è un qualcosa che va a connaturare in sé per sé la professione di giornalista infatti cosa si vuole fare mediante la tutela del segreto si vuole ribadire il ruolo del giornalista quale denunciante di fatti che possano contribuire a esercitare l'insopprimibile diritto come diceva bobbio della libertà di informazione e di critica la radice del mi perdonerete devo purtroppo farvi vedere alcune norme perché altrimenti quello che dico non avrebbe una sua reale collocazione invece così potete vedere che non sto mentendo ma quello che vi dico è vero l'articolo 2 della legge 69 del 1963 che tutti voi conoscete perché governa proprio la professione di giornalista ci dice che giornalisti ed editori quindi qua già abbiamo un'estensione rivolta agli editori sono tenuti a rispettare il segreto professionale sulla fonte delle notizie quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse quindi vediamo che abbiamo già alcune limitazioni il primo è il segreto che deve essere professionale e questo ha portato a una forma di stortura che poi vedremo quindi siamo in un ambito di professionisti di esercizio della professione giornalistica questo cosa significa che la fonte mi deve rivelare un qualche cosa che sia affine all'esercizio della mia professione se qualcuno viene mi rivela qualche cosa che è totalmente scollegato all'esercizio della mia professione di giornalista chiaramente non ha questo livello di tutela voi mi direte che cos'è che è collegata alla professione di giornalista che cos'è che non è collegata alla professione di giornalista è estremamente difficile capire che cosa perché in teoria il giornalista lavorando con l'informazione nasce per raccogliere qualunque tipo di informazione che possa avere come dice anche il garante in diversi suoi provvedimenti un qualche interesse verso il pubblico quindi potremmo dire che viene esclusa da questa tutela del segreto professionale tutto ciò che non può rivestire il carattere di informazione di interesse per il pubblico ok e quando ciò sia richiesto dal carattere fiduciario di esse ovvero sia la fonte deve essere una parte fiduciaria del rapporto professionale quindi deve essere la fonte stessa che in un certo senso ci fa capire che quella rivelazione viene fatta su una base fiduciaria che quindi deve essere tutelata dal segreto e abbiamo anche una connessa sanzione per la violazione del segreto professionale che il 622 cioè chiunque avendo notizia per ragione del proprio stato ufficio o della propria professione o arte di un segreto lo rivela senza giusta causa ovvero lo impiega a proprio altrui profitto faccio per dire una fonte mi dice di un probabile movimento borsistico io non la uso per fare una notizia ma la uso per gestire i miei investimenti o quelli dei miei familiari in borsa è punito se dal fatto può derivare un documento con la reclusione fino a un anno e con la multa da euro 30 euro 516 questa è la sanzione del 622 del codice penale specifica che colpisce giornalisti colpisce gli avvocati colpisce tutte quelle professioni come vedete qui chiunque per ragione del proprio stato ufficio della propria professione che rivela dei segreti quali sono gli elementi distintivi di questa fattispecie gli elementi distintivi sono innanzitutto lo stato cioè la condizione continua e stabile di prestatore di una determinata attività professionale vedremo infatti poi che negli articoli del codice di procedura penale qui è la stortura e un po anche l'antichità del nostro del nostro ordinamento questo tipo di tutele vengono garantite per il giornalista professionista viene scritto esattamente così negli articoli questo ha creato una grandissima produzione giurisprudenziale perché ragionevolmente è evidente che se il segreto giornalistico nasce per tutelare la professione la professione non la esercitano solo i professionisti ma la esercitano anche i pubblicisti la esercitano anche i collaboratori la esercita chiunque a qualsiasi titolo faccia informazione sapete però anche che una delle caratteristiche del diritto penale quella di essere tassativa e quindi i giudici molte volte si come dire trinceravano dietro il fatto che visto che la lettera del codice era molto chiara e parlava espressamente di giornalisti professionisti questo tipo di tutela doveva essere accordata ai giornalisti professionisti e non agli altri per fortuna e qui vi anticipo una parte delle conclusioni la tendenza giurisprudenziale sta cambiando nel senso che da un lato è stato sottolineato al legislatore il problema intrinseco di riservare questo tipo di privilegio esclusivamente ai giornalisti professionisti dall'altro lato alcune sentenze l'ultime proprio di luglio del 2015 del tribunale di Enna hanno riconosciuto in capa due giornalisti professionisti la possibilità di opporre il segreto professionale delle richieste che provenivano da un pubblico ministero per un'attività di indagine che stava svolgendo su un determinato scandalo avvenuto in Sicilia per il quale i due giornalisti incriminati avevano avuto modo di pubblicare delle fonti riservate e quindi il pubblico ministero era estremamente interessato scusate delle notizie riservate e quindi il pubblico ministero era estremamente interessato a conoscere l'identità della fonte che potesse aver portato queste notizie riservate secondo elemento è quello dell'ufficium ovvero sia il dovere di segretezza che un soggetto ha in capo a sé e quindi ce l'ha sia il giornalista sia l'avvocato sia il medico sia il ministro di culto come abbiamo visto la professione cioè l'esercizio di un'attività di carattere intellettuale la capacità in ragione dell'attività professionale di venire a conoscenza di segreti altrui o perché sono connaturati alla professione o perché in ogni caso si raccolgono segreti nell'esercizio della propria professione chiaramente la liceità dell'attività professionale esercitata e l'effettiva segretezza della notizia da tutelare nel momento in cui una notizia non dovesse essere più segreta anche se mi viene rivelata da una parte che mi dice o però mi raccomando non la dire a nessuno io non ho più alcun obbligo nei confronti di questo tipo di notizia semplicemente perché la notizia non è segreta e la protezione del segreto giornalistico risiede nell'articolo 200 del codice di procedura penale non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero ufficio professione salvi i casi in cui hanno l'obbligo di riferirne all'autorità giudiziaria e la parte che ci interessa il giudice se ha motivo di dubitare che la dichiarazione resa da tali persone per esimersi dal deporre sia infondata provvede agli accertamenti necessari se risulta infondata ordina che il testimone deponga le disposizioni previste dai commi 1 e 2 cioè che non possono essere obbligati a deporre oppure che il giudice può imporgli di deporre se risulta infondata l'opposizione del segreto professionale si applicano ai giornalisti professionisti scritti nell'albo professionale relativamente ai nomi delle persone dalle quali i medesimi hanno avuto notizie di carattere fiduciario nell'esercizio della loro professione quindi viene ripreso l'articolo 2 della legge professionale che vedevamo prima tuttavia se le notizie sono indispensabili ai fini della prova del reato per cui si procede e la loro veridicità può essere accertata solo attraverso l'identificazione della fonte della notizia il giudice ordina al giornalista di indicare la fonte delle sue informazioni quindi come vedete il principio generale è quello della segretezza c'è addirittura uno scudo che la legge dà a proposito della possibilità per il giornalista di opporre il segreto professionale ma analogamente la legge prevede un'eccezione ed è qui che sta il delicatissimo bilanciamento tra quella che è l'attività di tutela del segreto giornalistico e quella che invece è l'attività di esercizio di finalità di giustizia bilanciamento che poi è stato oggetto anche di una sentenza della corte costituzionale che poi vedremo perché in realtà sono due attività entrambe costituzionalmente tutelate ma che vanno in due direzioni esattamente opposte da un lato io cerco di tutelare il segreto dall'altro lato l'esercizio della giustizia passa necessariamente attraverso l'acquisizione di informazioni il magistrato deve verificare determinate ricostruzioni di fatti e per verificare determinate costruzioni di fatti deve chiaramente avere delle informazioni per questo motivo il terzo comma dell'articolo 200 prevede questa eccezione che è l'extrema razio nel momento in cui l'unico modo per accertare la verità effettivamente e conoscere l'identità della fonte che ha rivelato quelle informazioni al giornalista allora il giudice potrà ordinare al giornalista di rivelare la sua fonte ma deve essere veramente l'unico strumento investigativo l'ultimo meglio strumento investigativo rimasto al giudice certo, assolutamente sì, però attenzione perché anche per la legge voi non potete parlare davanti al giudice quello che viene dato qui è il procedimento ovvero sia il giudice dovrà dare una giustificazione motivata per la quale chiede che venga rivelata quella fonte e quella rivelazione di fonte deve essere veramente l'unico step investigativo che il giudice possa fare per rivelare quella cosa indispensabile quindi poi non so perché in effetti finora i casi almeno che ho potuto studiare io si sono sempre fermati non so se qualora dovesse andare avanti c'è una procedura per interessare anche l'ordine dei giornalisti e quindi studiare una scappatoia deontologica ma per fortuna al momento c'è sempre stato un altro metodo che gli inquirenti hanno potuto poi esperire per cercare di arrivare a quell'informazione prego per cui il professionista gli è stato riconosciuto il segreto professionale per il pubblicista no ne stavo parlando prima prima che lei entrasse questo è un tema estremamente dibattuto infatti è l'oggetto della seconda slide perché come diceva il vostro collega penso che il vostro collega la giurisprudenza è un divaga nel senso che come anticipavo prima alcuni giudici che si attaccano molto alla lettera della legge come diciamo noi giuristi dicono qui l'articolo è chiarissimo il diritto penale è tassativo parla di giornalista professionista iscritta all'albo professionale quindi per me è esclusivamente un giornalista professionista sono state sollevate però diverse eccezioni su questa norma perché poi la legge in sé per sé non nasce mai perfetta ovviamente e quindi abbiamo una parte di giurisprudenza anche che sta estendendo la tutela del segreto anche verso giornalisti pubblicisti un caso abbastanza recente è avvenuto sempre in Sicilia il tribunale di Palermo sarà anche perché lì i giornalisti magari si occupano di inchieste piuttosto scomode era l'aiutante della Petix l'inviata di striscia alla notizia la quale è una giornalista pubblicista opposto il segreto professionale il tribunale di Palermo ha esteso come vi dicevo un'altra sentenza la più recente che è questa qui del 26 marzo 2015 il tribunale di Enna ha assolto con formula piena due giornalisti ai tempi dello svolgimento dei fatti pubblicisti poi sono diventati professionisti i quali avevano posto il segreto professionale quindi anche in questo caso è stato esteso ma soprattutto cosa importante nell'ambito sempre di questa sentenza del tribunale di Enna è stata sollevata un'eccezione di legittimità costituzionale dell'articolo 200 del codice di procedura penale nella parte in cui chiaramente riconosce l'opponibilità del segreto professionale solo per i professionisti la corte costituzionale non si è ancora pronunciata come potete facilmente immaginare però magari è un quadro che è destinato a mutare magari al prossimo festival del giornalismo parleremo di un quadro estremamente differente ma che cosa viene tutelata abbiamo detto anche prima viene tutelata non solo l'identità della fonte quindi il nome, il cognome, l'indirizzo eccetera eccetera ma con questa Cassazione con questa sentenza la numero 85 del 2004 la Cassazione giustamente estende la tutela del segreto della fonte anche a tutte quelle indicazioni che possono condurre all'identificazione di coloro che hanno fornito fiduciariamente le notizie per cui rientra nel segreto professionale anche l'indicazione relativa alle utenze telefoniche di cui il giornalista disponeva nel periodo in cui ha ricevuto le notizie fiduciarie perché la stessa è dichiaratamente funzionale rispetto all'identificazione di coloro che tali notizie hanno fornito quindi in teoria anche sequestrare la rubrica del telefono o banalmente il telefonino del giornalista potrebbe andare a violare il segreto della fonte quindi non devo vedere come dice il codice in materia di protezione dei dati personali tutto quello che mi rende un soggetto identificato il nome, il cognome la via dove abita eccetera eccetera ma anche tutto quello che mi rende un soggetto identificabile quindi quegli elementi esterni mediante i quali io che ho un potere estremamente forte perché sono uno stato posso in ogni caso riuscire a ricostruire l'identità di quel soggetto quindi anche se il giornalista molte volte il giornalista neanche conosce l'identità della persona che gli sta parlando riceve telefonate da un numero e questa persona al telefono gli trasmette determinate informazioni magari lo stesso giornalista non ha modo di sapere chi c'è dietro questo numero e chi sia questa persona che gli sta trasmettendo queste informazioni un potere di natura statale potrebbe benissimo conoscere invece chi c'è dietro quella determinata utenza telefonica dove si trovava geograficamente in quel momento e tutta un'altra serie di informazioni quindi è evidente che la tutela del segreto della fonte si deve estendere anche a tutte quelle meta informazioni che possono portare comunque a identificare un soggetto e infatti c'è un'esplicita esclusione anche per quanto riguarda l'esercizio dei diritti dell'interessato che è contenuta nell'articolo 138 del decreto legislativo 196 del 2003 che è il codice privacy che ci dice in caso di richiesta dell'interessato di conoscere l'origine dei dati personali ai sensi dell'articolo 7 comma 2 lettera A per esempio il politico che fa una richiesta ex articolo 7 al giornalista di dire vabbè tu hai detto tu hai comunicato che ne so la strada dove abito mi dai l'origine mi comunichi l'origine dell'indicazione di questi dati personali è uno dei diritti di cui è l'articolo 7 del codice privacy che possono essere esercitati senza alcuna formalità e per i quali bisogna rispondere c'è una preclusione espressa per cui il codice privacy prevede che restano ferme le norme sul segreto professionale degli esercenti la professione di giornalista limitatamente alla fonte della notizia ovviamente perché ripeto l'unica cosa che viene tutelata nel vostro caso in essere non è la notizia ma la fonte è il testo unico dei doveri del giornalista che come sapete ha conosciuto la sua forma definitiva e promulgata proprio a fine gennaio del 2016 mi sembra che sia stato pubblicato sul sito del consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti il 26 gennaio 2016 viene ripresa un po' quella che era la vecchia disciplina ovvero sia che il giornalista rispetta il segreto professionale e dà notizia di tale circostanza nel caso in cui le fonti chiedano di rimanere riservate in tutti gli altri casi le cita sempre e tale obbligo persiste anche quando si usino materiali testi immagini sonoro delle agenzie di altri mezzi di informazione o dei social network quindi in questo senso quella che era la famosa carta dei doveri del giornalista nel testo unico dei doveri del giornalista si è aggiornato al punto da prevedere anche l'immissione di nuove fonti di informazione adesso siamo nell'era del crowdsourcing cioè c'è un grandissimo affollamento di fonti di informazione dalle quali il giornalista poi deve cercare di capire quali seguire e quali siano effettivamente affidabili o meno quindi questo rispetto della fonte va a coprire adesso anche addirittura i social network e il segreto giornalistico nell'era digitale diventa estremamente difficile da tutelare soprattutto se lo pensiamo rapportato al segreto pensato dal legislatore del 1963 non è un caso che l'UNESCO nel 2015 mi sembra verso metà del 2015 abbia pubblicato questi 13 principi che servono proprio per garantire il segreto della fonte nel giornalismo digitale quindi se siete interessati sul sito dell'UNESCO trovate anche questo tipo di pubblicazione che spiega quali sono le difficoltà che i giornalisti si trovano ad affrontare nella progressiva digitalizzazione della loro professione e quali possono essere i principi chiave da seguire per garantire comunque una buona protezione della fonte perché abbiamo una quantità di informazioni che prima non era assolutamente immaginabile quindi una maggior tutela da garantire a più soggetti perché adesso le fonti cominciano ad essere decisamente tante mentre prima magari un giornalista riusciva ad arrivare a fine carriera con le sue due tre fonti fiduciarie si specializzava in quel determinato ambito poteva essere l'ambito degli scandali finanziari poteva essere l'ambito delle inchieste giudiziarie qualunque altra cosa vi venga in mente le sue due tre fonti per tutta la durata della vita professionale continuavano a foraggiarlo con informazioni e quindi il giornalista si doveva preoccupare di tutelare questo bacino abbastanza ristretto di due tre fonti al massimo adesso che le fonti cominciano ad essere tantissime e che tutti quanti hanno un brandello di informazione da condividere con quel determinato professionista chiaramente il tema diventa molto più complesso c'è la possibilità di impostare criteri ordinativi o di ricerca sulle informazioni in formato elettronico le cosiddette attività di data mining quindi cercare di ricostruire anche il percorso che un'informazione ha fatto e come sia potuto arrivare a quel determinato giornalista e quindi poi individuare quale sia la fonte ad essere molto più semplice ne accennavamo nel panel precedente ci sono tutti questi sistemi che vengono definiti di open source intelligence ovvero sia di attività di ricerca su fonti libere su fonti aperte dove senza neanche bisogno di accedere a database magari tenuti da privati o informazioni comunque riservate io semplicemente basandomi su quelle che sono delle fonti aperte riesco magari a identificare la fonte e l'identità della fonte la rapidità negli scambi elettronici di informazioni qual è il pericolo nella rapidità degli scambi elettronici di informazioni chiaramente diminuisce la tutela nel momento in cui una fonte mi deve comunicare un qualche cosa di importante io sono sempre attaccato a questo oggetto perché aspetto che mi arrivi il messaggio o l'email con la quale mi viene confermata o meno quella determinata notizia quel determinato spostamento di quella persona che magari o interessa a intervistare o a intercettare o a far vedere che si trova in quel determinato luogo però io quello che registro nella mia città che è Milano è che tutti quanti utilizzano questi strumenti senza avere un minimo di accortezza riguardo alla protezione delle fonti quindi magari il giornalista lo legge in tram alle nove del mattino quando lo spazio vitale è estremamente ridotto e almeno altre cinque persone intorno a lui leggono faccio per dire il nome dell'assessore del comune che dice guarda che il presidente della regione sta uscendo in questo momento dal motel tal dei tali vai e fotografalo faccio degli esempi chiaramente di scuola però nulla vieta che queste cose possano avvenire qual è l'accortezza che viene utilizzata in questi casi praticamente zero perché chiaramente il giornalista non nasce per fare sicurezza informatica ma nasce per l'appunto per raccogliere e divulgare notizie quindi è normale che ognuno faccia anche un po' il suo mestiere la portabilità impensabile di ingenti moli di informazioni intere redazioni stanno all'interno di questi strumenti o di strumenti analoghi la registrazione eterna delle informazioni quindi anche diverso tempo dopo si è creato il problema per esempio con i sequestri dei computer all'interno delle redazioni di giornali dove magari erano rimaste delle informazioni riferite a giornalisti che neanche più lavoravano in quella determinata redazione che avevano condotto determinate inchieste per cui la protezione della fonte doveva ancora essere garantita e quindi in quel caso visto che come sappiamo è un obbligo che sia a carico del giornalista ma anche a carico dell'editore è l'editore che deve intervenire per evitare che i sequestri di computer possano anche colpire macchine che magari non sono più utilizzate perché il giornalista se ne è andata e quella macchina è rimasta spenta oppure è diventata semplicemente obsoleta e quindi si trova ad essere collocata in uno sgabuzzino all'interno della redazione per esempio anche in quel caso lì bisogna mantenere la segretezza facile tracciabilità chiaramente della provenienza del destinatario è molto semplice adesso nel mondo digitale riuscire a identificare il punto di partenza e il punto di arrivo la razio del segreto professionale del giornalista riporto questa frase che si trova in un volume abbastanza gradevole devo dire che si intitola proprio va de me cum del giornalista ci dice che lo scopo del cosiddetto segreto giornalistico non è evidentemente quello comune cioè di impedire la diffusione di una notizia privata ma all'opposto quello di agevolare la conoscenza dei fatti di interesse per l'opinione pubblica che diversamente per tema di ritorsione potrebbero restare celate se le fonti dell'informazione non fossero protetti in altri termini come vi dicevo prima il paradosso del segreto giornalistico è che al servizio della maggior diffusione possibile e non della restrizione dell'informazione cosa che invece avviene per tutti gli altri tipi di segreti questo segreto ovviamente necessita un insieme di bilanciamenti infatti vabbè qua ripeto alcune cose che ho già detto prima ovvero sia che tutte le informazioni che possano ricondurre comunque all'identità della fonte devono essere tutelate è molto importante nell'ambito del tentativo di bilanciamento che si trova ad essere effettuato questa raccomandazione 1950 del 2011 come sapete le raccomandazioni dell'Unione Europea sono dei testi di legge che non hanno la forza di un testo di legge ma che vogliono costituire uno stimolo per tutti quanti gli stati membri per indicare quella che secondo la Commissione Europea è la giusta strada per inquadrare una determinata questione o per regolamentare un determinato aspetto in particolare questa raccomandazione ci ricorda che il libero esercizio della professione di giornalista è compreso nel diritto di libertà di espressione e di informazione che è garantito dall'articolo 10 della Convenzione Europea sui diritti umani c'è un refuso ma l'articolo è il 10 questo diritto costituisce il fondamento di una società democratica ed è un requisito indispensabile per il progresso e lo sviluppo di ogni individuo e richiamando la raccomandazione del Comitato dei Ministri numero 7 del 2000 sul diritto dei giornalisti di non rivelare la loro fonte di informazioni l'Assemblea riafferma che la protezione delle fonti di informazione dei giornalisti è la condizione basilare per il pieno esercizio sia del lavoro giornalistico sia del diritto del pubblico di essere informato su fatti di rilevanza pubblica quindi abbiamo come vi dicevo quel contrasto tra l'articolo 200 che prescrive la possibilità per il giornalista di opporre il segreto professionale e invece per esempio l'articolo 362 del codice di procedura penale che prescrive che il pubblico ministero assume informazioni dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini delle indagini alle persone già sentite dal difensore o dal suo sostituto non possono essere chieste informazioni sulle domande formulate e sulle risposte date però come vedete anche il 362 prevede che si applicano le disposizioni di diversi articoli tra cui rientra l'articolo 200 cioè la possibilità per il giornalista di opporre anche al pubblico ministero il segreto giornalistico ci sono dei limiti però le persone indicate negli articoli 200 devono consegnare immediatamente all'autorità giudiziaria che ne faccia richiesta gli atti e i documenti anche in originale se così ordinato nonché i dati le informazioni e i programmi informatici anche mediante copia di essi su adeguato supporto e ogni altra cosa esistente presso di esse per ragioni del loro ufficio in carico ministero professione o arte salvo che dichiarino per iscritto che si tratti di segreto di stato ovvero di segreto inerente al loro ufficio e alla loro professione e questo è il vero problema l'autorità giudiziaria proprio perché il segreto professionale tutela l'identità della fonte può chiedere i documenti perché il documento del che ne so del pizzo che si sono scambiati il pizzetto che si sono scambiati i due assessori in quel determinato momento e che dice sì ok ti faccio passare quella determinata delibera se però tu mi fai costruire la villa in riva al mare quello non è tutelato dal segreto professionale quello che è tutelato dal segreto professionale è l'identità di chi ha preso quel documento e l'ha portata a conoscenza del giornalista però come faccio a questo punto io a suddividere quelle informazioni che non sono tutelate dal segreto professionale che quindi la magistratura mi richiede anche per attivare dei procedimenti nei confronti di un evidente caso magari di concussione di scambio di favori o simili e quelle che invece sono le prerogative del giornalista e la tutela del segreto perché ogni cosa che adesso produciamo porta inevitabilmente magari un dato che ci può ricondurre che può ricondurre alla nostra persona soprattutto nella misura in cui queste informazioni siano su formato elettronico perché se quell'informazione che il giornalista userà per fare il suo scoop è contenuta ad esempio all'interno di un'email che è spedita dalla fonte beh se la magistratura mi sequestra quella determinata email viene a conoscenza anche dell'identità della fonte o se anche la persona non ha usato nome.cognome chiocciola vattelapesca.it per fare il suo indirizzo di posta elettronica avrò degli indirizzi P avrò degli indirizzi che comunque ho delle informazioni che mi fanno capire il punto di partenza il punto di arrivo avrò una collocazione temporale che anche quella è estremamente importante per cercare di risalire all'identità di determinate persone quindi diventa estremamente difficile a un certo punto per il giornalista capire qual è una cosa nella quale opporre il segreto professionale e qual è una cosa per la quale invece non può opporre il segreto professionale tenuto presente che poi alcuni magistrati alcuni pubblici ministeri avanzano anche delle accuse di favoreggiamento nel momento in cui il giornalista abbia un atteggiamento estremamente protezionistico dei documenti che gli vengono richiesti quindi questo è un problema estremamente pratico dell'esercizio di un segreto che letto nei testi di legge sembra molto facile da inquadrare da comprendere ma che poi ha dei risvolti pratici non indifferenti per cui la sussistenza del segreto su determinati documenti deve essere sempre esternata in maniera formale ovvero sia se vi è una richiesta il giornalista deve dire no questo fascicolo questo computer questa casella di posta elettronica e le email riferite a questa determinata persona sono tutelate dal segreto professionale non discende quindi anche dal mero status di giornalista professionista la segretezza su tutto ciò che concerne la sua attività e su questo spero di essere stato sufficientemente chiaro fino ad ora abbiamo un altro limite che è nel 271 del codice di procedura penale non possono essere utilizzate le intercettazioni relativa a conversazioni o comunicazioni delle persone indicate nell'articolo 200,1 quindi sempre giornalisti quando hanno oggetto fatti conosciuti per ragione del loro ministero ufficio professione salvo che le stesse persone abbiano deposto sugli stessi fatti o li abbiano in altro modo divulgati quindi la tutela si va ad estendere anche alle intercettazioni relative alle conversazioni e alle comunicazioni perché anche le conversazioni e le comunicazioni possono farmi identificare chi sia la fonte di quella determinata notizia il tono di voce l'accento qualunque altra cosa vi possa venire in mente ma già solo l'utenza di partenza e l'utenza vabbè l'utenza di destinazione sarà sicuramente quella del giornalista l'utenza dalla quale parte quella determinata informazione come vi dicevo però il bilanciamento è estremamente difficile questa sentenza della Corte Costituzionale del 1981 è estremamente importante perché se da un lato si può propendere per una iperprotezione di quello che è il segreto giornalistico dall'altro lato la Corte ci ricorda che c'è un altro interesse che merita di essere tutelato e che è costituzionalmente garantito che sono comunque gli interessi di giustizia per cui la stessa Corte stabilisce che nel conflitto tra queste due istanze quindi la protezione della fonte per il giornalista ma comunque le esigenze di giustizia che chi esercita la giustizia cioè tipicamente il pubblico ministero e il magistrato si trovano ad avere deve essere realizzata dal legislatore e ottenere quindi una ragionevole ed equilibrata composizione degli opposti interessi che ci consenta come dicono i costituzionalisti di comprimere a seconda del caso di specie quella che è un valore costituzionale rispetto ad un altro quindi magari far soffrire una volta la tutela della fonte per una maggiore esigenza di giustizia o far soffrire l'esigenza di giustizia per una maggiore tutela del segreto giornalistico come vi dicevo in questo senso il codice di procedura penale è abbastanza chiaro collocandolo come eccezione estrema l'obbligo del giudice di rivelare la fonte da parte del giornalista e anche la corte di cassazione con questa sentenza del 2011 ci ricorda che compito del giudice procedere ad un cauto e al tempo stesso rigoroso bilanciamento tra le contrapposte esigenze rappresentate da un lato dal doveroso accertamento dei fatti e delle responsabilità e dall'altro dalla necessità in ipotesi antagonista di preservare il diritto del giornalista a cautelare le proprie fonti in vista dell'espletamento della funzione informativa riguardata come uno dei pilastri fondamentali delle libertà democratiche ed è estremamente importante perché al di là della ipotesi che vi ho ventilato di favoreggiamento c'è un qualcosa di estremamente più calzante nel caso in cui il giornalista si trovi ad essere convocato in sede processuale e si rifiuti di rispondere che è l'articolo 372 chiunque deponendo come testimone innanzi all'autorità giudiziario alla corte penale internazionale afferma il falso nega il vero vero tace in tutto in parte ciò che sa intorno ai fatti sui quali interrogate è punito con la reclusione da due a sei anni questa è l'altra fattispecie che viene ad essere contestata dai giornalisti ai giornalisti scusate dai giudici nel momento in cui si rifiutano di rispondere oppongono il segreto professionale quindi è un tema di bilanciamento assolutamente non semplice sempre nella raccomandazione del 2011 quindi come vi dicevo un testo di legge che non ha un valore cogente viene data una fortissima tutela alla fonte giornalistica se vi dovessi dare un consiglio che poi tra l'altro è un consiglio che viene ripreso anche da Franco Abruzzo rifatevi sempre alle raccomandazioni europee e alla disciplina della corte europea dei diritti dei diritti umani perché lì c'è una giurisprudenza consolidata di tutela e di ipertutela anche se vogliamo del segreto giornalistico quindi mentre nella giurisprudenza nazionale vediamo magari delle prese di posizione non estremamente nette anche se adesso devo dire che la tendenza è a prendere delle prese di posizione decisamente più calzanti più decise scusate i giochi di parole la corte europea dei diritti dell'uomo invece è estremamente chiara e ho riportato alcuni estratti qui innanzitutto viene specificato che le pubbliche autorità non devono chiedere la rivelazione delle fonti di informazione perché proprio richiesto dal corollario dell'articolo 10 della dichiarazione universale dei diritti dell'uomo sul diritto di informazione e altrettanto ci ricorda che qualora la rivelazione della fonte si renda necessaria devono esserci delle circostanze eccezionali quando il legislatore parla di circostanze eccezionali si intendono generalmente dei valori costituzionali che siano posti in pericolo dall'esercizio del segreto professionale del giornalista quindi solo diritti di pari rango possono comportare che in effetti vi sia un'ipotesi di bilanciamento che quindi un certo diritto debba temporaneamente cedere magari il passo a un altro tipo di valore costituzionalmente tutelato e in ogni caso le autorità competenti l'altra parte in grassetto devono specificare le ragioni per cui quel determinato interesse vitale dello Stato possa essere perseguito solo attraverso la compressione del segreto giornalistico quindi in questa raccomandazione la Commissione europea prende una posizione estremamente forte e di per tutela del segreto giornalistico e come vi dicevo la Corte di Strasburgo ha condannato in più occasioni perquisizioni svolte in redazioni perché violavano il segreto professionale dei giornalisti questo è l'articolo 10 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo che ci dice che ogni persona ha diritto alla libertà di espressione tale diritto include la libertà d'opinione la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte dell'autorità pubblica senza considerazione di frontiere questo è l'articolo che viene sempre considerato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nel momento in cui deve giudicare in materia di tutela del segreto giornalistico il primo caso è il caso Godwin verso UK in questo caso la Corte europea dei diritti umani dice che considerando che ogni giornalista ha il diritto di ricercare le notizie è logico corollario di questo diritto anche la protezione delle fonti in quanto come dicevamo prima l'assenza di questa protezione potrebbe dissuadere le fonti non ufficiali dal fornire notizie importanti al giornalista con la conseguenza che questi correrebbe il rischio di rimanere del tutto ignaro di informazioni che potrebbero rivestire un interesse generale per la collettività è un po' il principio anche del whistleblowing nel momento in cui io so di essere protetto magari vada a rivelare che nel mio ufficio ci sono delle pratiche corruttive c'è un determinato atteggiamento di un superiore eccetera eccetera ma quando so che non sono protetto e che quindi in ogni caso rivelare quell'informazione potrebbe ritorcersi contro di me allora probabilmente dirò ma sai che c'è fammi fare i fatti miei e evito proprio di rivelarlo altro caso importante è il caso Romen versus Lussemburgo nel 2003 viene di fatto ribadito quanto era stato già prescritto per il caso Godwin ovvero sia la libertà di espressione costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e le garanzie da concedere alla stampa rivestono un'importanza particolare la protezione delle fonti giornalistiche è uno dei pilastri della libertà di stampa l'assenza di una tale protezione potrebbe dissuadere le fonti giornalistiche dall'aiutare la stampa a informare il pubblico su questioni di interesse generale quindi di fatto riprende proprio quello che avevamo visto prima nel caso del Financial Times contro UK come vedete il Regno Unito è stato molte volte oggetto di come dire di cause di fronte alla Corte Europea dei diritti dell'uomo non perché per carità il governo inglese sia più cattivo degli altri governi europei ma semplicemente perché lì c'è una tradizione se vogliamo giornalistica anche molto più forte di tutela del segreto giornalistico in questo caso cos'era successo che il giudice aveva ordinato la consegna del documento originale in quanto utile a risalire alla fonte di un'informazione molto rilevante da un punto di vista economico che aveva creato turbativa i mercati e danno verso la società ricorrente perché non dobbiamo dimenticare cosa che abbiamo visto parzialmente nel panel precedente anche quali sono gli effetti e le ricadute di determinate informazioni quindi quali possono essere i danni che queste informazioni vanno a creare quindi va benissimo fare la professione di giornalisti va benissimo rivelare determinate informazioni ma determinate informazioni potrebbero anche creare delle situazioni di danneggiamento di danno nei confronti di determinati soggetti che quindi fanno muovere l'azione giudiziaria e l'attività del giudice per ricostruire quei determinati avvenimenti qui abbiamo uno di quei casi in cui non viene richiesta l'identità della fonte ma viene richiesto il documento originale che però poteva essere utile per risalire alla fonte dell'informazione quindi è molto difficile scorrelare quello che è documento l'informazione grezza di cui parlavamo prima da quella che è un'informazione che comunque processata mi può portare ad identificare la fonte ma anche in questo caso la Corte Europea dei diritti dell'uomo ha dato prevalenza alla segretezza della fonte quindi anche il tentativo di dire io chiedo il documento originale perché non è protetto dal segreto e tramite quello prova a risalire all'identità della fonte non ha funzionato se il giornalista avesse compromesso la segretezza della fonte oltre a danneggiare la fonte stessa avrebbe rovinato anche la propria reputazione agli occhi di future potenziali fonti quindi la Corte Europea dei diritti dell'uomo fa questo passaggio successivo oltre ad essere importante perché se non c'è questo procedimento fiduciario c'è una generale disincentivazione a rivelare queste informazioni c'è anche un profilo di tutela del singolo professionista ovvero se si dovesse sapere che un giornalista non tutela in maniera adeguata la riservatezza delle proprie fonti chiaramente nessuno avrebbe più interesse magari ad andare a rivelare qualche cosa a questo giornalista e arriviamo adesso a una sentenza recentissima della quale sicuramente avrete sentito parlare che è il caso Gormuz e altri verso il governo turco è una sentenza di gennaio di questo gennaio in questo caso si è affrontato il problema della protezione della fonte non solo da parte del giornalista ma anche del direttore responsabile e dell'editore perché cos'era successo erano stati pubblicati questi articoli all'interno dei quali si rivelava che le forze armate turche avevano stilato un elenco di giornalisti graditi e giornalisti non graditi io ovviamente non ho letto gli articoli quindi posso immaginare che nell'ambito dei giornalisti graditi rientrassero quelli che magari avevano una particolare predilezione per quelli che sono i programmi governativi nei giornalisti indesiderati magari erano le voci un po' fuori dal coro o chi poteva contestare determinate operazioni però ripeto è una mia pura illazione non avendo letto gli articoli ma chiaramente le forze armate utilizzavano questi elenchi per decidere chi invitare a determinati eventi conciò minando quel generale dovere di informazione che il pubblico ha per esercitare il proprio insopprimibile diritto di critica che abbiamo visto prima cosa succede alla pubblicazione di questi articoli alla pubblicazione di questi elenchi la corte militare ordina la perquisizione di tutti i materiali cartacei e informatici presenti in redazione ivi compresi quelli personali il che ha comportato per la polizia la copia forense di ciascuno dei 46 computer trovati quindi non solo quello che rappresenta in redazione ma anche quello che magari è di natura personale come può essere il telefonino il telefonino non è detto che sia necessariamente il telefonino della redazione anzi molte volte i giornalisti proprio per poter disciplinare l'utilizzo dello strumento informatico come meglio credono preferiscono avere un telefono personale dal quale ricevere magari determinate informazioni piuttosto che riceverle sul telefono della redazione dove comunque un altro soggetto tipicamente il direttore responsabile o l'editore potrebbe eventualmente chiedere i tabulati e magari risalire a una determinata utenza telefonica quindi per tutelare ulteriormente il segreto la corte europea dei diritti dell'uomo ha condannato quest'operazione di copiatura perché oltre che essere eccessiva perché se voi copiate il contenuto di un computer chiaramente copiate non solo quella porzione di informazioni che riguarda l'eventuale indagine sulla fuoriuscita di informazioni sulla pubblicazione delle liste relative ai giornalisti graditi o ai giornalisti non graditi ma probabilmente acquisite informazioni su tutte le inchieste che sono state mosse da un determinato giornalista e quindi anche su qualche cosa di precedente che continua ad essere tutelato in ragione della segretezza della fonte e tra l'altro risultava inutile perché il signor Gormus che era l'editore aveva fornito i documenti per come li aveva ricevuti dalla sua fonte quindi quello che poteva quello che la corte la corte militare in questo caso utilizzava come grimaldello per cercare di identificare la fonte quindi nuovamente chiedere il documento originale quella porzione che non è tutelata dal segreto giornalistico si è vista che si è rivelato un boomerang in questo caso perché non avendo un diretto contatto con la fonte l'editore l'aveva tranquillamente consegnata e quindi non c'era più alcun bisogno di procedere a copie e perquisizioni di strumenti informatici personali abbiamo avuto un caso anche qui in Italia che è arrivato a Cassazione nel 2007 dove nell'ambito di un'indagine viene sequestrata dalla polizia giudiziaria l'area del server presente nella redazione romana di un quotidiano gestita dal giornalista e viene duplicato l'hard disk del computer e della cartella presente nell'area del server del quotidiano restituendo però alla redazione gli originali di questi documenti la Cassazione interviene dicendo riporto solo la parte sottolineata che una ricerca incontrollata delle fonti di certe notizie rischia di dare luogo ad un sostanziale aggiramento del principio di cui all'articolo 200 del codice di procedura penale e alla disciplina del 256 quindi questa attività di perquisizione e di copia forense che è stata fatta del server è stata giudicata come eccessiva e in grado di minare il principio fondamentale del segreto giornalistico e anche in questo caso con riferimento alla posizione del giornalista professionista a cui è assicurata la garanzia del segreto professionale non quale privilegio personale ma quale presidia la libera incondizionata informazione il criterio di proporzionalità tra il contenuto di un sequestro probatorio di cui il giornalista è destinatario e le esigenze di accertamento dei fatti deve essere rispettato con particolare rigore evitando quanto più possibile pericolosi ed inutili interventi intrusivi per riassumere quindi la eccezionalità della ingerenza del potere dello Stato anche quando sia mosso da esigenze di giustizia e quindi sia mosso per cercare di ricostruire dei fatti che hanno un peso giuridico all'interno di un processo deve essere sempre fatto in maniera proporzionale deve essere l'estrema razio rispetto a un'attività di indagine che magari può essere svolta con altri metodi quindi ricapitolando in caso di richiesta al giornalista di rivelare la fonte delle proprie informazioni o di apprezzione di dati o documenti tramite i quali risalire all'identità della fonte il giornalista al momento sicuramente professionista speriamo a breve di qualunque tipo di albo e categoria può sempre opporre il segreto professionale il giudice può anche superare questo limite ma deve essere l'extrema razio dettata da esigenze di giuristizia che rendano essenziale l'accesso a quell'informazione e in tal senso richiamerei anche la raccomandazione del Consiglio d'Europa dove le ragioni eccezionali devono anche essere specificate cioè non posso dire ragioni eccezionali giustificano questa procedura ma devo dire quali sono le ragioni eccezionali che portano a giustificare questa procedura e in ogni caso l'attività del giudice deve limitarsi alla verifica dei fatti oggetto d'indagine senza invadere ulteriormente l'area del segreto giornalistico e l'area privata del giornalista che mai come adesso con sistemi promiscui come si chiama che vengono ad essere utilizzati ovvero sia lo strumento informatico che ho usato non solo per l'esercizio della professione ma anche per la mia vita privata e personale nel momento in cui io giornalista non sono direttamente oggetto d'indagine chiaramente ho una tutela rispetto ai miei dati e rispetto a quello che si trova all'interno dei miei strumenti informatici io vi ringrazio per l'attenzione ed è rimasto qualche minuto per delle domande grazie chiedevo se lei se lei fosse una fonte di informazione qui in Italia si sentirebbe tutelato da queste norme che danno al giudice di fatto la possibilità comunque di sollevare un'eccezione al segreto giornalistico allora come dicevo prima se devo guardare lo storico della giurisprudenza sì nel senso che magari c'è stato il procedimento giudiziario che tra l'altro a me come fonte al netto di un certo timore di essere prima o poi scoperto non mi comporta neanche nessuna forma di spesa o di esposizione però finora almeno nelle aule di giustizia alla fine il segreto è stato sempre tutelato quindi potrei dire di sì se Apple fosse stata un'azienda italiana le cose come sarebbero andate secondo lei relativamente all'obbligo di sbloccare l'iPhone secondo me la risposta di Apple poteva essere analoga a quella che ha dato rispetto all'FBI e agli Stati Uniti e sarebbe stata tutelata che quelle che sono nella misura in cui non ci sono delle ipotesi di favoreggiamento che nel caso di specie mi viene difficile immaginare ma perché poi e qui lo dico spero a microfoni spenti secondo me il grosso problema è stato che è stata malposta la domanda nel senso che loro chiedevano la creazione di un grimaldello universale per un'esigenza particolare quando invece forse se avessero chiesto una cosa particolare magari del resto voglio dire non è ignoto che alcune procure sono riuscite ad accedere anche a determinati dispositivi con la collaborazione dei produttori di quei determinati dispositivi quindi non è una novità assoluta per rispondere alla sua domanda credo che in Italia sarebbe potuta andare in maniera analoga rispetto agli Stati Uniti anche perché quelle che sono le cosiddette prestazioni obbligatorie ovvero sia quelle alle quali bisogna rispondere per richiesta di un pubblico ministero sono riservate a una determinata categoria di soggetti a determinati tipi di dati probabilmente l'avrebbero fatto senza farlo sapere questo non posso dirlo può darsi può darsi altre domande bene allora lascio la parola a GB Gallus grazie a tutti